La scuola Dante Alighieri di Camerino certifica i propri corsi con un attestato di frequenza. Ogni studente alla fine del corso riceve il suo attestato di frequenza. In base poi al tipo di corso che viene frequentato, per esempio il corso di diritto o il corso di architettura, si riceve un certificato dell'Università di Camerino, perché la scuola Dante Alighieri lavora in collaborazione con l'Università di Camerino. Chi frequenta il corso di cucina riceve un certificato specifico per la frequenza al corso di cucina, in più noi abbiamo una collaborazione con l'Università per stranieri di Perugia, che è una delle più importanti università per stranieri italiane, e nei mesi di marzo, giugno e novembre facciamo a Camerino l'esame Celi e chi frequenta e fa questo esame in questi tre mesi riceve una certificazione che è diversa da un attestato. La certificazione ha un valore legale ed è la certificazione ufficiale dello Stato italiano. Quindi quando voi ricevete la certificazione facendo l'esame a Camerino potrete avere questo certificato dell'Università di Perugia che vi permette anche di frequentare per esempio l'Università in Italia. Con un livello B2 si può frequentare l'Università in Italia senza dover fare un esame. Quindi potete anche certificare la vostra lingua.